Questa è Quasiradio.it Quasiradio.it Io sono stata cetica e raggiolo E l'ho ben vista la vita che fanno Mettano tre castagne in un paiolo E con quell'acqua la mi resta fanno Ciao, mi chiamo David Savelli della Tax, artigiani del panno casentino Siamo produttori del famoso panno casentino Che ha come caratteristiche tipiche i colori e il ricciolo I colori tipici sono l'arancio e il verde classico, bandiera Che sembra siano nati da errori nella lavorazione Poi in antichità sono talmente piaciuti soprattutto alle signore fiorentine Che sono rimasti diciamo una sorta di marchio di fabbrica del tessuto Questo tessuto ha bisogno di ben 13 fasi di lavorazione E una fase molto importante è una delle ultime Si chiama ratinatura Che dà al tessuto appunto l'effetto ricciolo Questo ricciolo che è una delle caratteristiche del tessuto Una sorta di doppio strato proprio per renderlo più impermeabile La nostra azienda produce tessuto e confezioni a prezzi di fabbrica Abbiamo dei punti vendita sia qui a Stia, a Poppi Che a Firenze in Borgo Santi Apostoli Tutti sempre a prezzi di fabbrica E vi aspettiamo se vorrete venire a trovarci Grazie a tutti Grazie a tutti